Stan Laurel, nato il 16 giugno 1890 a Ulverston, una città nella regione della Cumbria, nel nord dell'Inghilterra, proveniva da una famiglia profondamente radicata nel mondo dello spettacolo. Suo padre, Arthur J. Jefferson, 1862-1949, era un artista poliedrico, attore, autore, regista e impresario di vari teatri inglesi. Sua madre, Madge Metcalf, 1860-1908, era un'attrice drammatica molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica. Fin da bambino, Arthur Stanley Jefferson, conosciuto come Stan, mostrava un grande desiderio di far ridere e divertirsi, anche in contesti inappropriati come durante le lezioni scolastiche. Questo suo comportamento non giovò ai suoi studi, rendendolo uno studente irregolare. Inoltre, la vita itinerante della famiglia, dovuta alla carriera teatrale del padre, comportava frequenti cambi di città, fino a quando, nel 1901, si stabilirono definitivamente a Glasgow, in Scozia. Nel 1900, un anno prima di questo trasferimento, Stan ebbe la sua prima opportunità di esibirsi in pubblico. La sua esibizione avvenne a North Shields durante la parata militare in celebrazione della liberazione della città di Mafeking dall'assedio durante la Seconda Guerra Boera, 1899. Questo evento segnò l'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, che lo avrebbe portato a diventare uno dei più amati comici del cinema muto e sonoro. Stan Laurel dovette attendere fino al 1906, quando aveva appena 16 anni, per il suo vero debutto teatrale, che avvenne di nascosto dal padre, il quale avrebbe preferito che il figlio seguisse una carriera da impresario piuttosto che da attore, e soprattutto non da attore comico. Grazie ad Albert Picard, proprietario del Britannia Theatre di Glasgow, Stan ebbe l'opportunità di partecipare a uno spettacolo di Music Hall, dove ricevette grandi applausi per un numero che lui stesso definì terribile. La sua carriera teatrale iniziò così con piccole parti in spettacoli di pantomima, principalmente nella compagnia Levy & Cardwell, specializzata in sketch con attori bambini. Il primo di questa serie di spettacoli fu The Sleeping Beauty, la bella addormentata, nel 1907. La svolta nella carriera di Stan avvenne quando entrò alla fine del 1909 nella compagnia di Fred Carno. In questa compagnia Stan lavorò al fianco di un giovane comico appena un anno più grande di lui, Charles Chaplin. Stan e Chaplin, condividendo la camera d'albergo e vivendo alcuni momenti piacevoli fuori dal palco, recitarono insieme in due tournée teatrali negli Stati Uniti, 1910 e 1912. Stan fu assunto come sostituto di Chaplin, il che dimostra che Carno aveva riconosciuto in lui grandi potenzialità come attore comico, anche se non ebbe mai l'occasione di sostituirlo realmente. Stan si accontentò dei ruoli marginali che gli venivano assegnati, recitando nei principali sketch della Carno Company. Mummingbirds, Skating, Jimmy the Fearless e The Wow Wows. Un evento curioso si verificò con lo sketch Jimmy the Fearless. Il ruolo principale era stato offerto a Chaplin, che inspiegabilmente lo rifiutò, permettendo così a Stan di ottenere la parte. Quando Stan andò in scena nelle prime due serate nell'aprile 1910, il successo fu clamoroso. Chaplin, ancora una volta senza un motivo chiaro, reclamò il ruolo che aveva inizialmente rifiutato e, naturalmente, gli fu concesso. Nel 1911, Stan lasciò la compagnia per tentare, con il coraggio e l'intraprendenza dei suoi 21 anni, di mettere in scena uno sketch scritto da lui, Rom Hans from Rome, insieme a un ex membro della Carno, Arthur Dandau, con cui formò il duo The Bartow Brothers. Tuttavia, il tentativo fallì e Stan tornò nella compagnia di Carno. La seconda tournée del 1912 negli Stati Uniti fu un grande successo di pubblico per la compagnia di Fred Carno. In particolare, Charles Chaplin fu notato da Max Hennett, il quale lo chiamò a far parte della sua compagnia cinematografica. Tuttavia, il resto della compagnia non ebbe la stessa fortuna. Dopo l'uscita di Chaplin, gli impresari e il pubblico non apprezzarono i suoi sostituti e la compagnia si sciolse pochi mesi dopo. Nonostante il suo ruolo ufficiale come sostituto di Chaplin, Stan Laurel non fu accusato di scarsa comicità, ma fu semplicemente ignorato. Dopo aver lasciato la compagnia di Carno, Stan decise di rimanere in America per tentare la fortuna. Si unì nuovamente ad ex membri della compagnia di Carno, formando il gruppo The Three Comiques, con la coppia di coniugi Edgar ed Ellen, Ren, Hurley. Successivamente cambiarono il nome in The Keystone Trio. Con questo gruppo, Stan e gli Hurley portarono in scena le comiche di Charlotte, con Stan nel ruolo del vagabondo, grazie alla sua conoscenza della mimica di Chaplin acquisita durante gli anni passati insieme nel teatro di varietà. Non si hanno molte informazioni sul successo o il fallimento dello spettacolo del trio, ma è noto che Edgar Hurley, desideroso di una carriera da solista, lasciò il gruppo. Stan dovette quindi sostituire gli Hurley con un'altra coppia di coniugi, Alice e Baldwin Cook. Questa volta le cose andarono meglio. I Cook, infatti, diventarono attori secondari nelle comiche di Laurel e Hardy. Lo Stan Jefferson Trio, questo il nuovo nome del gruppo, continuò a esibirsi nei teatri di provincia, sebbene senza grandi successi. Nonostante le difficoltà, Stan Laurel non si arrese e continuò a perseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo, che lo avrebbe poi portato a diventare una delle più grandi icone della comicità cinematografica, insieme al suo futuro partner Oliver Hardy. La svolta nella carriera di Stan Laurel avvenne nel 1917, quando conobbe May Dalberg, una giovane cantante australiana, durante una tappa della tournée. May diventò non solo la sua partner artistica, ma anche la sua compagna nella vita privata. Insieme formarono il duo Stan e May Laurel. Fu May a suggerire a Stan di cambiare il suo cognome da Jefferson a Laurel, un nome più breve e fortunato, secondo la sua superstizione. Il cambio di nome avvenne casualmente, ispirato da un libro di storia. Il nuovo nome portò fortuna a Stan. Durante una serata a Los Angeles Hippodrome Theatre, fu avvicinato da Adolf Remisch, il proprietario del teatro, che lo presentò a Carla Heml, il capo della Universal. Questo incontro portò a un contratto cinematografico e nel 1917 Stan fece il suo debutto cinematografico in Nuts, in May. Anche se il film è andato perduto, alcuni frammenti di pellicola sono stati ritrovati. La carriera cinematografica di Stan iniziò con la Universal, ma non ottenne subito il successo desiderato. Passò quindi alla role in patè di Hal Roach, il futuro creatore del duo Stanlio e Olio, dove girò numerosi film che però non ebbero grande successo, e alcuni di questi sono andati perduti. Successivamente lavorò per la Vitagraph, dove collaborò con Larry Sammon, noto in Italia come Ridolini. Con Sammon, Stan girò tre film nel 1918, Huns and Hyphens, Bears and Badmen, conosciuto in Italia come Ridolini e la Belva Nera, e Froads and Frenzies, conosciuto in Italia come Ridolini e Stanlio al bagno penale. In quest'ultimo film, Stan e Sammon erano coprotagonisti, ma poiché Stan risultava più divertente, Sammon tagliò diverse gag di Laurel nel montaggio finale, sminuendone così la performance. Deluso dall'esperienza alla Vitagraph, Stan decise di tornare al varietà in attesa di nuove e migliori opportunità nel cinema. Questa fase transitoria non durò a lungo, poiché presto sarebbe emersa l'occasione che lo avrebbe consacrato come una delle più grandi icone della comicità cinematografica, insieme a Oliver Hardy. Lo Stan and May Laurel riscosse un grande successo di critica e pubblico dal 1918 al 1920. G. M. Anderson, noto per aver interpretato il personaggio di Bronco Billy nei primi film western muti, fu particolarmente entusiasta dello spettacolo. Nel dicembre del 1920, in occasione della formazione della sua nuova compagnia cinematografica, Amalgamated Producing, Anderson scritturò Stan. La comica pilota della nuova serie fu The Lucky Dog, girata agli inizi del 1921. Anderson chiamò a dirigerla Jess Robbins, regista delle comiche di Jimmy Obry, noto in Italia come Fridolin. Robbins aveva bisogno di un cattivo per il film e scelse uno dei migliori attori del gruppo di Obry, Oliver Hardy. Fu così che Stan Laurel e Oliver Hardy si incontrarono per la prima volta, ma senza ancora alcun seguito di collaborazione. Dal 1922 al 1924, Stan girò molte comiche da uno due rulli, ottenendo un buon successo come nuovo comico, superando i suoi esordi nel cinema di pochi anni prima. Nei film, Stan interpretava un personaggio sicuro di sé, pasticcione, magrissimo, come non sarà mai quando farà coppia con Hardy, sfacciato e ottimista. Si distingueva per la scelta di gag tanto surreali quanto divertenti, ma che non eguagliavano il successo dei film di Chaplin, Keaton e Harold Lloyd. Stan tornò alla Roach per una seconda volta, dove fu affiancato a James Finlayson, il futuro cattivo di molte avventure di Laurel e Hardy. Finlayson interpretava la classica vittima dei pasticci di Stan, reagendo con una rabbia incontenibile che stravolgeva il suo volto, caratterizzato da enormi baffi e occhi strabuzzati. Questo periodo fu cruciale per Stan Laurel, poiché lo preparò per la celebrità che avrebbe raggiunto con la formazione del duo comico Laurel e Hardy. La sua collaborazione con Oliver Hardy, iniziata come un incontro fortuito, si sarebbe trasformata in una delle più grandi partnership comiche nella storia del cinema. Nel 1924 Stan Laurel passò al produttore indipendente Joe Rock, che gli propose una serie comica tutta sua, le Stan Laurel Comedies. Questa serie di 12 comiche contribuì notevolmente alla sua popolarità. Tuttavia, la vita privata di Stan cominciò a creare problemi per la sua carriera. Produttori, esercenti e persino registi durante le riprese erano in disaccordo con lui riguardo a Mae Laurel. Sebbene fosse una brava attrice, Mae era considerata troppo corpulenta e poco adatta al ruolo di femme fatale. Mae combatté strenuamente per ottenere le sue parti, arrivando anche a minacciare chiunque ostacolasse le sue ambizioni. Quando la situazione divenne insostenibile, Joe Rock riuscì a convincere Stan a separarsi da Mae. Alla fine, nel 1925, Mae partì per l'Australia, portando con sé i mila dollari e alcuni gioielli, come incentivo per convincerla a lasciare Stan. Nonostante il successo delle Stan Laurel Comedies, Stan era stufo dei brogli finanziari di Joe Rock. Rock spesso riduceva il budget previsto per le riprese, trattenendo per sé i risparmi ottenuti, girando le comiche in due settimane anziché in un mese. Alla fine, Stan decise di tornare alla Roach Studios, accettando la richiesta di Hal Roach di riprendere la loro collaborazione. Questo ritorno alla Roach Studios si rivelò una svolta cruciale nella carriera di Stan. Fu qui che ritrovò Oliver Hardy e la loro collaborazione divenne una delle più celebri nella storia del cinema comico, dando vita al leggendario duo Lore Leardi. Nel maggio del 1925, Hal Roach era a capo di un vero impero del divertimento, noto come Lot of Fun, che includeva diverse serie comiche di grande successo, come quelle di Charlie Chase, Snub Pollard, Le Simpatiche Canaglie, Our Gang e la All-Star Series. In quest'ultima serie, gli attori della compagnia di Roach avevano l'opportunità di recitare insieme in farse esilaranti che piacevano molto al boss. Stan Laurel fu scritturato da Roach come regista di questa serie, lavorando con attori di talento come James Finlayson, Clyde Cook, Ted Abara e Oliver Hardy. Hardy, che aveva accumulato una lunga esperienza come freelance, era passato alla Roach e la loro collaborazione iniziò con il film Yes, Yes, Nanette. Questo film segnò il primo incontro professionale tra Stan e Oliver alla Roach, ponendo le basi per una grande amicizia e una futura complicità nella recitazione in coppia. Stan diresse tre comiche con Hardy nel cast e scrisse gag e copioni per altri dieci film in cui Hardy era attore secondario. La sua abilità creativa era finalmente riconosciuta. Già quando lavorava per la compagnia di Joe Rock, Stan voleva avere il controllo su tutti gli aspetti della produzione, dal montaggio alla creazione di gag e soggetti, infatti fu lui stesso a scrivere tutti gli sketch che interpretò dopo aver lasciato la compagnia di Fred Carno nel 1912. Hal Roach apprezzava molto il talento di Stan e non poteva immaginare che col tempo avrebbe cominciato ad avere problemi proprio a causa delle grandi doti creative di Laurel. La sua capacità di scrivere, dirigere e interpretare gag uniche e divertenti lo rendeva una risorsa preziosa per lo studio, ma anche una figura sempre più dominante nel processo creativo. Questo periodo segnò l'inizio della collaborazione che avrebbe dato vita al leggendario duo comico Laurel e Hardy. La combinazione delle loro abilità comiche e della visione creativa di Stan Laurel portò alla creazione di alcuni dei film più amati e memorabili nella storia del cinema comico. Il destino era ormai pronto a formare Stan Laurel e Oliver Hardy come attori di coppia. Nel giugno del 1926, durante le riprese di Get Him Young, Stan era regista e Oliver Hardy era uno degli attori principali. Tuttavia tre giorni prima del primo Chuck, Oliver si ustionò seriamente un braccio mentre cucinava a casa sua. F. Richard Jones, supervisore e regista, chiese a Stan di prendere il posto di Oliver, ma questi rifiutò inizialmente, temendo per il suo ruolo di regista. Alla fine, un aumento di stipendio e la sicurezza di conservare la parte creativa dei suoi film convinsero Stan ad accettare. In questo film, nella parte del maggiordomo di Harry Myers, Stan inaugurò il suo tipico pianto isterico, un manierismo che sarebbe diventato uno dei suoi segni distintivi. Sebbene Hal Roach apprezzasse molto questa trovata, Stan non era altrettanto entusiasta, poiché preferiva evitare soluzioni facili e detestava ricorrere a scenette come ripiego. Con il ritorno alla recitazione, l'incontro con Oliver Hardy sul set era quasi inevitabile. Il primo film che girarono insieme, Duck Soup, 1927, si basava su un vecchio sketch del padre di Stan del 1908, anche se i ruoli interpretati in coppia erano ancora lontani da quelli dei futuri Staglio e Olio, si potevano già intravedere le dinamiche che avrebbero caratterizzato il duo. Stan come la vittima e Oliver come il padrone, che finiva per diventare a sua volta vittima della forza distruttrice di Stan. Seguirono altri film insieme, ma spesso con ruoli separati. Se Stan o James Finlayson erano i protagonisti, Oliver ricopriva spesso il ruolo di cattivo o di caratterista ciccione. Un esempio significativo fu Do Detectives Think, 1927, dove debuttarono nei loro abiti, poi diventati celebri. Giacca, cravatta e bombetta. Il pubblico trovava le loro scene insieme più divertenti che quelle da separati e questo non sfuggì alla Roach. Leo McCary, vicepresidente degli studios, cominciò a riflettere seriamente sulla questione e propose a Stan e Oliver di formare una coppia fissa. Si racconta che Stan non fosse inizialmente entusiasta dell'idea, non per antipatia verso Oliver, ma perché desiderava tornare alla regia e lasciare la recitazione. Oliver invece era desideroso di realizzare il progetto poiché, dopo 12 anni da attore secondario, avrebbe finalmente potuto diventare un protagonista a tutti gli effetti. Nel giugno del 1927, con un copione di 19 pagine scritto da Leo McCary, Stan Laurel e Oliver Hardy girarono il loro primo film in coppia, The Second Hundred Years. Questo coincise con il passaggio di Roach dalla Patè, che distribuiva anche le comiche del suo grande rivale, Mac Sennett, alla Metro-Goldwyn-Mayer. La collaborazione tra Laurel e Hardy segnò l'inizio di una delle partnership più celebri e amate della storia del cinema comico. Per tutta la seconda metà del 1927, Laurel e Hardy continuarono a sviluppare e perfezionare i due personaggi che oggi ben conosciamo. Questi personaggi erano due ingenui, spesso bistrattati da tutti, potenzialmente sciocchi ma candidamente volenterosi di unirsi al mondo esterno. Tentavano di svolgere lavori che non sapevano fare, di gestire matrimoni che non sapevano mantenere e di trascorrere insieme giornate che non riuscivano a terminare senza scatenare, non per primi, litigi e distruzioni. Vivevano come due amici inseparabili, nonostante la continua instabilità. Stanlio e Olio rappresentavano due bambini nel corpo di adulti, impregnati da un'anima tanto buona quanto distruttrice. La loro novità risiedeva nei caratteri dei loro personaggi, che ricordavano fumetti a cui era stata data la grande possibilità di prendere vita. Stanlio, assente e piagnucoloso, era magro e incapace di stare al suo posto, mentre olio, grasso e dal viso tondo con uno sguardo sconsolato, teneva molto alla sua dignità, manifestandola con gesti eleganti quanto ridicoli. Il loro successo esplose come mai prima era accaduto. La loro comicità, basata su un'incredibile sintonia e una perfetta complementarità dei ruoli, catturò immediatamente il pubblico. La combinazione di gag visive, slapstick e la caratterizzazione distintiva dei personaggi rese Stanlio e Olio un fenomeno senza precedenti nel mondo del cinema comico. L'elemento distintivo della loro comicità era la capacità di creare un microcosmo in cui l'ingenuità e la buona volontà dei personaggi generavano caos e distruzione, ma sempre con un tocco di umanità e affetto. La loro capacità di far ridere il pubblico con situazioni semplici e quotidiane, trasformate in eventi straordinariamente comici, fu alla base del loro immenso successo. Lore e Leardi divennero così icone della comicità, influenzando generazioni di comici e lasciando un'impronta indelebile nella storia del cinema. La loro collaborazione durò fino alla metà degli anni 40, attraversando il passaggio dal cinema muto al sonoro e consolidandosi come una delle coppie comiche più amate di tutti i tempi. Stan e Oliver lavorarono senza sosta per cinque anni, girando più di 30 comiche mute e una quarantina di comiche sonore. Il passaggio al sonoro nel 1929 non solo non li penalizzò, ma aprì loro nuove possibilità comiche. Potenziarono le gag con l'uso del rumore, spesso fuori scena, crearono memorabili duetti canori e lasciarono le poche battute agli altri personaggi. Ebbero grandi complici sia sulla scena, come Charlie Hall, James Finlayson, Edgar Kennedy, Stanley Tiny Sanford, Mae Bush, Anita Garvin e Thelma Todd, sia dietro le quinte, con registi come James Perrot, Leo McCary, fino al 1930, e James W. Horn, cameraman come George Stevens e Art Lloyd e montatori come Richard Currier e Bert Jordan. L'uso delle musiche fu affidato a Marvin Hartley, inventore del Cuckoo Song, la canzone del Cuckoo, che dal 1930 accompagnava la loro entrata in scena. In seguito Leroy Shield creò numerosi temi musicali che oggi sono largamente rivalutati dalla critica. Il passaggio al sonoro non fu solo una sfida artistica per Lore Leardi, ma anche un problema economico, soprattutto per il mercato internazionale. Nel 1929, quando il doppiaggio non era ancora diffuso, l'unico modo per far sì che i loro film fossero compresi all'estero fu quello di girare versioni in altre lingue, come spagnolo, italiano, tedesco e francese. Questo causò un effetto comico aggiuntivo, poiché Stan e Oliver storpiavano le parole e facevano errori di accento, suscitando ancora più risate dal pubblico straniero. Questa strategia si rivelò un successo soprattutto in Europa, dove contribuì ulteriormente alla loro popolarità. In Italia, in particolare, il pubblico apprezzò molto l'italiano buffissimo, utilizzato da Lore Leardi nelle versioni doppiate dei loro film. Quando il doppiaggio venne introdotto anche negli Stati Uniti nel 1932-1933, questa caratteristica contribuì a consolidare ulteriormente la fama internazionale della coppia comica. La vacanza estiva del 1932 fu un momento speciale per Stan Laurel e Oliver Hardy, che decisero di trascorrerla insieme, nonostante le loro abitudini e stili di vita diversi. Stan era noto per essere un lavoratore instancabile, dedicando la maggior parte del suo tempo al set e al montaggio dei film, poiché, oltre ad essere attore, era anche regista e montatore non accreditato dei suoi film. D'altra parte, Oliver, soprannominato Babe dai suoi amici, aveva interessi più mondani, come il golf e le corse dei cavalli, ma quando era sul set seguiva attentamente le indicazioni di Stan su cosa fare in scena, anche se manteneva la sua unicità nelle espressioni facciali, nel modo di recitare e nei gesti. Il viaggio insieme divenne un evento straordinario, con folle di fan e giornalisti che li accolsero lungo il loro percorso da Los Angeles a New York, poi in nave fino a Southampton e, infine, attraverso diverse città europee. Questa esperienza confermò loro la loro fama come star del cinema, con calorosi benvenuti a Londra, a Parigi e in altre città. Durante il viaggio, Stan ebbe l'opportunità di rivedere suo padre e la sua matrigna, Venitia, rafforzando i legami familiari. Il culmine di quell'anno straordinario arrivò il 18 novembre 1932, quando il loro cortometraggio La Scala Musicale, The Music Box, vinse l'Oscar, confermando il loro status di leggende del cinema comico. La tensione tra Stan Laurel e Hal Roach cominciò a farsi sentire quando Roach decise di puntare sui lungometraggi per massimizzare gli incassi, mentre Stan preferiva rimanere nella categoria dei cortometraggi. Inoltre, i soggetti scelti da Roach per i film non soddisfacevano pienamente Stan, il quale trovava difficoltà nell'adattare le sue idee creative ai piani del produttore. Nel 1932 Roach aveva già discusso i loro contrasti con i dirigenti della MGM, ma l'intenzione di sciogliere la coppia non sembrava essere sulla tavola. La situazione si complicò ulteriormente con l'avvento della Grande Depressione, che colpì pesantemente Hollywood e portò alla riduzione del personale e dei budget degli studios, inclusi gli attori. Roach dovette imporre tagli profondi al budget delle produzioni di Laurel e Hardy, costringendo lo staff di autori, compreso Stan, a modificare le gag e i finali dei loro film. Questa situazione rappresentò un nuovo ostacolo per Stan nella realizzazione dei loro progetti cinematografici, causando tensioni e conflitti con Roach. La serie di Stanlio e Olio subì gli effetti della crisi e Roach dovette prendere misure drastiche per adattarsi alla situazione economica difficile. I problemi di produzione emersero, portando a scontri sempre più frequenti tra Stan e Roach. La crisi tra Al Roach e Stan Laurel fu ulteriormente aggravata dalla difficile situazione matrimoniale di quest'ultimo. Stan si era sposato nel 1926 con Lois Nilsson, da cui ebbe due figli, ma il suo impegno costante sul set lo teneva spesso lontano da casa, contribuendo alle tensioni nella coppia. Nonostante i tentativi di mantenere il matrimonio, Lois chiese la separazione nel 1932 e successivamente il divorzio, che divenne definitivo nel 1935. La vita sentimentale agitata di Stan divenne oggetto di attenzione da parte dei media, soprattutto dopo i suoi numerosi matrimoni e divorzi. Questo caos matrimoniale, spesso pubblicizzato sui giornali, preoccupava Al Roach, che temeva che l'immagine di produttore di film per famiglie potesse essere compromessa dal comportamento immorale di Stan. Quando Roach lavorò all'adattamento dell'opera Nel paese delle meraviglie, Babes in Toyland, per un nuovo film della coppia nel 1934, Stan espresse delle obiezioni riguardo a gran parte della storia. Nonostante il successo del film e le recensioni entusiastiche, Roach nutrì del risentimento verso Stan, alimentando così ulteriori tensioni tra i due. La tumultuosa situazione personale di Stan, tra matrimoni instabili coniugali, si rifletteva anche sul suo lavoro. Nel marzo del 1935, durante la lavorazione del film Bonnie Scotland, Stan fu licenziato da Al Roach a causa di divergenze creative e di tensioni crescenti tra i due. Tuttavia, la reazione dei fan e il riconoscimento dell'importanza della coppia, Laura e Leardi convinsero Roach a riassumere Stan solo un mese dopo. Nonostante ciò, le tensioni tra Stan e Roach non si placarono completamente e Roach cercò di placare la situazione, offrendo a Stan un maggiore controllo artistico sui suoi film successivi. I film Allegri Gemelli e i Fanciulli del West, entrambi del 1936 e considerati capolavori, portavano addirittura la dicitura prodotto da Stan Laurel, anche se Stan non aveva contribuito finanziariamente alla produzione. Nel tentativo di trovare una soluzione alle crescenti frizioni, Stan fondò la Stan Laurel Production nel 1937, nonostante fosse priva di fondi adeguati. La sua casa di produzione si concentrò principalmente sulla realizzazione di film western di serie B, senza coinvolgere Oliver Hardy, che era ancora legato da contratto a Roach. Nel frattempo, Roach tentò di stringere affari con Vittorio Mussolini per formare la RM, Roach & Mussolini, ma l'accordo non ebbe successo e venne abbandonato presto a causa delle proteste da parte della MGM e della comunità cinematografica, che non voleva essere associata al regime fascista italiano. Nonostante i tentativi di risolvere i conflitti, la vita personale di Stan continuava a essere turbolenta, con un nuovo matrimonio e le intemperanze della sua terza moglie, Ilyana Shuvalova, che spesso lo tenevano lontano dal set. Il periodo che va dall'estate del 1938 alla primavera del 1939 fu estremamente tumultuoso per Stan Laurel. Dopo essere stato licenziato da Hal Roach, minacciò azioni legali e la situazione si fece complicata. Nel frattempo, Roach pianificò di continuare la produzione di film con Oliver Hardy, in coppia con Harry Langdon per il film Zenobia Olio Sposo Mattacchione. Stan, dal canto suo, affrontava problemi personali, inclusi i suoi numerosi problemi matrimoniali. Durante questo periodo ci furono voci riguardanti un progetto di serie comica con Stan Laurel sotto la produzione di Mac Sennett, intitolato Problem Child. Tuttavia, questo progetto non si concretizzò mai e Stan ipotizzò che ciò fosse dovuto al declino della carriera di Sennett come produttore. Nel frattempo, la vita familiare di Stan era in disordine e lui stava affrontando una difficile situazione con la sua terza moglie. Le tensioni raggiunsero il culmine quando Stan presentò istanza di divorzio agli inizi del 1939. Questo periodo di crisi, sia sul fronte professionale che personale, segnò una fase difficile nella vita di Stan Laurel. La loro fama internazionale li portò in Europa per una serie di tournée di successo tra il 1947 e il 1948, toccando Gran Bretagna, Francia, Svezia e Danimarca. Durante questo periodo girarono anche il loro ultimo film insieme, Atollo K, una coproduzione italo-francese. Tuttavia, la sceneggiatura del film non era ben vista negli Stati Uniti, ritardando la sua uscita. Durante le riprese, Stan si ammalò gravemente e le sue condizioni di salute apparvero pietose sullo schermo. Dopo un periodo di recupero, fecero ritorno in Gran Bretagna per esibirsi nuovi sketch teatrali nel 1952 e nel 1953-1954. Tuttavia, la salute di Stan continuava a essere precaria e, nel maggio del 1954, furono costretti ad annullare le ultime tappe della loro tournée. Sebbene la loro popolarità negli Stati Uniti stesse crescendo grazie alle repliche televisive dei loro film, le offerte di lavoro per la coppia erano in diminuzione. Un'eccezione a questa tendenza fu un progetto di serie televisiva a colori intitolata Le fiabe di Lore Leardi, ideata dal figlio di Hal Roach. Stan e Oliver accettarono entusiasticamente, ma poco prima dell'inizio delle riprese, nell'aprile del 1955, Stan si ammalò nuovamente e il progetto dovette essere abbandonato. Questa tragedia segnò la fine della collaborazione artistica tra i due comici leggendari. La morte di Oliver Hardy, il 7 agosto 1957, segnò la fine di una delle coppie comiche più celebri della storia. A causa delle precarie condizioni di salute di Stan Laurel, il suo medico gli proibì di partecipare al funerale del suo collega. Stan, pur volendo partecipare, rispettò il divieto medico, affermando che Babe avrebbe capito la sua assenza. Questo gesto, puramente motivato da ragioni di salute, fu interpretato da alcuni come un segno che Lorele e Hardy non si fossero considerati vicini nella vita privata, una percezione che Stan stesso smentì in una lettera indirizzata ad amici pochi giorni dopo. Alla cerimonia funebre di Hardy parteciparono la moglie di Stan, Ida, e la figlia, Lois Laurel. Oliver Hardy fu sepolto al Valhalla Memorial Park Cemetery a Hollywood. Nel 1961, agli ultimi anni della sua vita, Stan Laurel ricevette finalmente il premio Oscar alla carriera, ma purtroppo Oliver Hardy non poteva vedere questo riconoscimento né l'interesse rinnovato per il lavoro della coppia da parte delle nuove generazioni. Nonostante inizialmente avesse rifiutato, Stan scrisse lo statuto dell'Associazione Internazionale dedicata alla diffusione dell'opera della coppia comica I figli del deserto, che porta il nome in onore del film Omonimo. Nel 1963, il regista Stanley Kramer offrì a Laurel un cameo nel suo film Questo pazzo, 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 pazzo mondo, ma Stan declinò l'offerta, decidendo di non recitare più dopo la morte di Hardy. La scomparsa di Stan Laurel il 23 febbraio 1965 segnò la fine di un'era nell'ambito della comicità. Laurel morì all'età di 74 anni, nella sua casa all'hotel Oceana a Santa Monica, dove viveva con la moglie dal 1958. Il funerale si tenne alla Church of the Hills, nel cimitero di Forest Lawn di Hollywood Hills, e la sua salma fu poi cremata e tumulata. Nelle settimane precedenti alla sua morte, Stan aveva scritto una lettera a un amico in cui parlava di una brutta infezione alla bocca che stava affrontando con difficoltà. Laurel era ammirato non solo per la sua straordinaria capacità di far ridere, ma anche per la sua umanità e autoironia. Una delle sue ultime battute, rivolte a un'infermiera poco prima della sua morte, mostra il suo spirito brillante anche nei momenti più difficili. Durante il suo funerale, Dick Van Dyke, amico di Laurel, lo elogiò, mentre il celebre comico del cinema muto Buster Keaton lo definì il più divertente di tutti, superando persino Chaplin. Stan Laurel rimane una leggenda della comicità, amato e ricordato da generazioni di spettatori per il suo talento e la sua umanità.